Sporting 2-1-9 colcioneros parziale, a finiremo tempo 3-1 per lo Sporting Andiamo a parlare prima con qualche elemento dei colcioneros Lario, esordio per te con i colcioneros, state giocando con una squadra imbattuta da più di un anno, ma me la state giocando bene Sei una buonissima squadra, siamo andati in vantaggio all'inizio con un gol fatto da me Non so, loro dopo ci hanno tartassato i tiri, i passaggi, abbiamo preso 3-3 Fanno giocare bene la palla, voi dovete cercare di sfruttare Non è che stanno giocando meglio di noi, però ci hanno molte doti tecniche, scusate l'affanno No, no, lo so, va bene, buon secondo tempo A tra poco ragazzi, per le interviste di fine gara Siamo nel postpartito del match, Sporting 2-1-9 colcioneros, gara terminata 8-2 per lo Sporting Che continua la sua striscia di vittorie, 8 consecutive, se non sbaglio, 8 su 8 Migliore in campo di Simone, autore di un tris di reti per la sua squadra Per gli avversari c'è Cretella, il capitano, 8-2 Avete cominciato bene la gara passando anche in vantaggio e nel primo quarto tour avete messo in difficoltà Gli avversari che sapete sono davvero fortissimi Poi cosa è successo? L'avete mollato dal punto di vista fisico? Sì, purtroppo non ci siamo sotto l'aspetto fisico Però ci avevamo anche elementi che tornavano ad allenamento, crampi Quindi non abbiamo potuto dare il massimo Sappiamo rigiocarci contro una grande squadra dall'inizio Se eravamo al massimo della forma potevamo giocarcela per il parigi Sì, diciamo che il problema dei Colcioneros è che cambiate squadra ogni settimana Però quest'ultima squadra se riuscissi a portarla tutte le settimane Sarebbe un buon viatico per le fasi finali È una bella sfida È una bella sfida Portare sempre tutti sul campo È una bella sfida venire qua alle 11 di sera per divertirci Questo è l'importante In bocca al lupo veramente complimenti De Simone, è l'ennesima vittoria, è l'ennesima prova di carattere Oggi non c'era Cuglilmo Neanche Cagliano, penso Sì, è vero Però ce la cagliamo sempre, Cagliano Siamo una squadra Complimenti, complimenti anche a te Grazie, grazie, gentrissima Siete una squadra e si vedete sempre in campo Anche nei momenti di difficoltà Lottiamo sempre, questo è l'importante Primi matematicamente, già dalla settimana scorsa Adesso l'obiettivo è comunque mantenere questa striscia Questo primato, sì Anche questa striscia che ormai è vendeggiata l'anno scorso Eh sì, è un anno e mezzo che non perdete Quindi vuoi fare una dedica particolare per questa vittoria? Alla squadra, a tutti quanti che ci divertiamo sempre Con il pallone, questo è l'importante Va bene, salutiamo Dessi A te, a te, a te A te, a te A te, a te A te A te A te A te